Buongiorno a questo giorno, ormai inizia sempre così il video, non lo so Allora, come avrete detto dal titolo ragazzi, Gonalon, ti prego, fallo per noi Fallo per noi, c'è la possibilità che tu vada in una squadra un po' più piccola della Roma ovviamente Ma comunque in Premier, un bel campionato, la Premier League è il campionato più bello del mondo Poi il Crystal Palace si è salvato l'anno scorso, però è una squadra forte Secondo me ti conviene, andresti a giocare di più, saresti il protagonista, saresti il giocatore più forte della squadra Quindi fidati di me, fidati di me Ragazzi, buongiorno E' arrivata una clamorosa offerta dal Crystal Palace Dopo vi dico i nomi del mercato della Roma e faccio un aggiornamento sul mercato della Roma Perché ho delle novità che non sono novità, dopo vi spiego il motivo Però prima di iniziare vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, attivare sempre la campanella E seguimi su Instagram, Joe Giant Andate nelle mie storie perché vi ho lanciato un sondaggino Allora, altra cosa fondamentale Oggi alle 18.30, 18.45.19 Ho intenzione di fare una live come lo scorso anno Dove guardiamo insieme i sorteggi del calendario di Serie A della prossima stagione Come l'anno scorso, ci siamo fatti una bella chiacchierata l'anno scorso Eravamo anche in tantissimi Quindi mi raccomando, impostate le sveglie a quell'ora a fare una live Allora, gone alone Gone alone, la questione è questa Alla fine della stagione, la Roma e Di Francesco Avevano intenzione di dare una seconda opportunità a gone alone Perché si sa che il primo anno è sempre di ambientamento Di Francesco si fidava e voleva provarlo un altro anno Più che altro voleva testarlo nella tournée, nella preparazione estiva, eccetera eccetera La preparazione estiva ha dato esito, diciamo negativo Perché gone alone non solo non è riuscito ancora ad adattarsi Ma pare che sia facendo cagare più dell'anno scorso nella tournée Questo è un po' clamoroso però è così ragazzi Gone alone sta facendo più schifo dell'anno scorso E quindi Di Francesco si è deciso e ha chiesto alla società di vendere gone alone e di sostituirlo I nomi per il centrocampo non si sanno Così come non si sanno i nomi per l'attacco L'offerta del Crystal Palace è di 10 milioni di euro Dovrebbero essere 8 più 2 di bonus, una roba del genere Quindi non tutti fissi Ed è comunque una plusvalenza per la Roma Perché dovrebbe averne spesi 5 o 6 l'anno scorso Quindi sarebbe una buona plusvalenza Da non farsi scappare Quindi la situazione è questa Sperando che il giocatore parta E che non rifiuti una volta arrivato sull'aereo E non chieda al pilota di fermare l'aereo e di scendere a Roma Magari si butta con un paracadute e torna a Roma in Mongolfiera Però la situazione è questa La Roma vuole vendere gone alone Quindi una volta arrivata la cessione di gone alone Speriamo La Roma dovrebbe acquistare da qui alla fine del calciomercato Un esterno d'attacco Il famosissimo esterno d'attacco di Piedemancino E un centrocampista per sostituire gone alone I nomi non sono usciti ancora Non credete a nessuno Lucky Lucky Ehi vieni qua Scusate un attimo Vieni qua Vieni qua No Vieni qua Scusate così si fermano Lucky Vieni Vieni qua Ok Di Piedemancino E il centrocampista centrale I nomi ancora non si sanno ragazzi Perché la Roma vuole evitare Lucky La Roma vuole evitare un Malcom 2 Quindi adesso agirà sotto traccia E non vorrà far sentire a nessuno le trattative che ci sono e che vorrà fare Questo è quello che so dirvi Quindi non credete a tutti i nomi che stanno sparando a manetta tutti i giornali Perché stanno sparando un sacco di nomi Neres Toven Magari Toven Quadrado Berardi Suso Zonzi Herrera Varela Ovvio che se fai 20 nomi uno lo becchi Cioè è ovvio ragazzi Però io non me la sento di darvi dei nomi perché all'effettivo non ci sono La Roma sta lavorando sotto traccia Quindi non me la sento di darvi dei nomi Io tra tutti quei Baylia anche Tra tutti questi nomi L'unico che mi fa impazzire di più è Toven Boh a me piace un botto Toven Suso non lo so ragazzi Suso non mi convince tantissimo Poi in uno scambio con Perotti Non lo so io Perotti non lo venderei mai Perché comunque lì sulla sinistra abbiamo sì Perotti e Sharawi e Kluivert ma abbiamo sempre Kluivert che è ancora acerbo Quindi potrebbe avere delle difficoltà all'inizio e quindi tu hai comunque Perotti e Sharawi Quindi la Roma acquistando un esterno destro di piede mancino potrebbe anche rimanere così in attacco e non vendere nessuno Quindi questo è quello che vi volevo dire Niente ragazzi questa è la situazione quindi Igon Alon ti prego La Premier League è un bel campionato È il più bello del mondo Ma perché non ci vai? Dai su Ti accompagno io Ti accompagno io Come vuoi Come vuoi Metto io la benzina non ti preoccupare Quindi Gon Alon Grazie di tutto Ma se te ne vai sarebbe La giocata più bella e più decisiva che tu abbia mai fatto da quando sei qui a Roma Quindi Gon Alon ti prego Ragazzi seguitemi su Instagram JoeGiant Ci vediamo oggi pomeriggio con la live Se tutto va bene Quindi mi raccomando Seguitemi su Instagram per aggiornamenti sulla live E sulle trattative di calciomercato Grazie a tutti